Manca ancora tanto, tantissimo, due anni e mezzo, in politica sono sufficienti due o tre mesi per bruciare un nome o un'idea e addirittura pochi giorni, come si è visto nell'elezione delle presidenti della Repubblica in corso, figurarsi due anni e mezzo appunto. Però intanto qualcosa Casal Maggiore inizia a muoversi e lo fa con Daniela Bellini, commerciante del centro cittadino, la sua tabaccheria in piazza Garibaldi, che lancia una proposta, una lista tutta al femminile, eventualmente anche con un candidato sindaco Rosa, una prima cittadina donna che Casal Maggiore nella sua storia non ha mai avuto, non per andare contro ma per aiutare la bellezza, spiega Daniela. Buongiorno, mi chiamo Daniela Bellini e per le prossime elezioni ho pensato di presentare una lista al femminile, chiamandola regina di cuori. Regina di cuori perché noi donne siamo regine di cuori, abbiamo una sensibilità che gli uomini secondo me non hanno. Sono votata al sociale, ho fatto un sacco di progetti che riguardano le persone in difficoltà, io penso che persone, animali, io penso che bisogna dare sempre una voce agli ultimi, senza trascurare la bellezza. Io sono convinta che ogni persona può avere tanto da dare, quindi vorrei dare voce agli ultimi, alle persone che non vengono mai ascoltate, alle persone anziane, improntato alla solidarietà e poi tornando alla bellezza, siccome io mi ritengo un esteta, dare anche una bellezza a livello esteriore a questo paese, non c'è più niente, avere un po' d'orgoglio, che quando qualcuno viene qui dica ma Dio che bella Casal Maggiore, è proprio un bel paese, invece adesso, io lo dico con parole semplici, adesso è triste e quando c'è bruttura anche l'animo è molto triste.